veramente non ero preparato alla slitta solo quello perché il resto sto bene tutto bene tutto a posto ecco la zahora di 40 kg di slitta che è dura molto dura passato dai alaska queste sono immagini che vedevo solo da youtube adesso invece sono immerso in questo e sono contento molto contento ti ringrazio ok in quelli di denali veramente tosto veramente tosto un abbraccio un bel te caldo e riposeremo ancora perché oggi giornate di relax questo è quello che si vede ancora, nada, 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 a dopo siamo quelli arrivati al campo 4 praticamente siamo morti morti non è più e lì si sale per il 5200 adesso arriviamo qua scoliniamo 4300 che stai facendo un po' di più che fai 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 e è e quando sarò in fe di orio seduto alle 4 a farmi un caffettino vista Apple, vista ottica FOP questo me lo devo ricordare per tutta la vita almeno per oggi domani sarà un altro panorama e dopo domani per un altro ancora bellissimo abbiamo anche il sound direi che più di così il massimo occhio al coperchio ecco a posto vai urra a posto Grazie a tutti. Grazie a tutti.